Grazie. 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 Tanto 12 a 10, Pasinelli direi. Mentre l'altra partita Merloni-Rinaldi è nell'altro canale senza commento. Grazie. Seconda biglia per De Antonis. 20 a 12 Alessandro Stella. Primo set. Tira in attacco. Non la prende per un niente ma non la prende. Ci riprova ancora largo. Fotocopia di quella di prima. Volevo coinvolgere Valerio Alvisi chiedendogli tre sono già stati master e tre no. Pasinelli è già stati master. Cardellini idem. Merloni vabbè. Qualche decennio nei master credo. Gli altri tre mi sa che non hanno mai... Merloni è uno dei più vincenti della storia nei master. Sì. Credo che abbiamo vinto solo tre titoli di Boccetta. Sette di Goriziana da master. Sei. Perché cerca il decimo e lo cercava contro Morini. Quindi solo tre da Boccetta sia una carriera. Solo tre. Mediocre, no? Ma al di là di quello dicevo, attenzione che Stella va a bersi un birillo. Simone Rinaldi, Alessandro Stella, Andrea De Antonis non mi sembra ci siano mai stati. No. Quindi, vuol dire che avremo sicuramente una novità assoluta nel vincente di Antonio Stella. E poi si vedrà... Sicuramente avremo uno che c'è già stato e bisogna vedere nella partita fra due generazioni di giocatori diversi... Ma, eh, due generazioni... Anche di più, direi, eh? Chi preverrà? Naturalmente lì, chiunque vinca, sarà uno spettacolo. Perché se vince Simone Rinaldi, bellissimo, neanche 23 anni, se vince Merloni, proprio impoteosi, perché è di diritto sua la categoria master. Ma non riscausa, come fanno le lauree, è uguale. Il giocatore è esagerato. Sicuramente anche per Marco Merloni Rinaldi è un osso durissimo. Eh sì. L'importante è che entra questo fondamentale per Marco Merloni, la bocciata. Questo è fondamentale che entri, perché altrimenti non ci sarà partita, così saranno tre set, due set o tre set, estremamente avvincenti. E ricordo che questa partita è visibile nell'altro canale senza... Tanto traspondere e salire, attenzione a darci forte. Commento. Rischio signora Longheri per Alessandro Stella. Grazie. 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 Attenzione perché tutti questi punti che sembrano anche non difficilissimi rappresentano delle insidie. deve prendere un pistichino di biglia bianca e mandare via la palla passando dietro il pallino Antonio ci pare intanto fra Merloni e Rinaldi 22 Pasinelli 12 Cardellini tiro lo schiaffettino del pallino non si fidava tanto Cardellini sia assolutamente in palla brutte notizie per Pasinelli che però a sua volta sta veramente bocciando benissimo ricordo sono le tre partite che disegneranno i tre master e saranno rispetto all'anno scorso tre nuovi master perché i due che erano risultati perdenti dai play-out sono già stati eliminati mi riferisco a Massimo Cicali nella seconda partita da De Antonis e Lorenzo Turroni invece direi da Fabrizio nella prima che poi ha perso da Simone Rinaldi questo per far capire com'è il livello di queste pulle livello 5 stelle lo possiamo dire? assolutamente sì gran livello bocciata per Andrea De Antonis che è sotto 33 a 18 ed ecco qua il 10 forse 12 vediamo eh sì eh strike 33 a 30 comincia a prendere quote il match ricordiamo 2 su 3 50 intanto possiamo anche dire che ci sono due rimini e mezzo quindi buona prima di stella vediamo De Antonis Alessandro Strella da largo aveva messo una bella prima e De Antonis l'ha cambiata dovrebbe aver segnato stella però attenzione da qui non è dato sapere uno degli abiti più brutti del circuito sta arrivando a misurare il punto è Luigi Rumualdi da Forlì tanto Cardellini vediamo se riusciamo a fare senza defenestrare l'iPad eccolo qui bocciata per Simone Cardellini rovescio ma attenzione è un rovescio importante perché trova dei bei punti pesante due virilli soli sembrava molti di più è una questione di millimetri per fare il rosso e il fari bianco due contro zero si va il tiro di apertura una biglia rimane dentro credo che si andrà deve scegliere se fare il calcetto di lunga corta normale a una spandina questa è l'ultima scelta del giocatore titolare delle biglie bianche che prova a vedere se si può fare un birillo niente da fare 35 stella 30 di Antonis sarà un finale in volata mi sa grazie a tutti non ho visto, è rimpallato? rimpallo leggero ma rimpallo è punti zero, intanto c'è Marco Merloni alla bocciata, non inquadrato poi siamo sull'altro canale senza commento ma l'importante è vederle le partite è la cosa più importante brutte notizie per Rinaldi però solo due punti per il maestro 19-18 attenzione, non gira tanto bene la biglia bianca, sembra larga si, gira sul largo è andata benissimo Alessandro Stella ci sono due giocatori che vengono dalle qualificazioni del mattino, Alessandro Stella e Mario Pasinelli l'anno scorso uno ce l'aveva fatta, quest'anno due quindi a questo punto non è poi impossibile se giochi bene è difficile perché vincere sei partite con due format diversi soprattutto ad alto livello e questo è un livello massimo che c'è grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un raraccio di D'Antonis che aveva tutte le possibilità di portare il palino nella sponda bassa dove c'erano i suoi vigli. Adesso per niente è facile. Mentre Pasinelli spassa il 10. 35-26. Vediamo se c'è anche lo strike. No. Per adesso c'è l'equilibrio totale. Attenzione che va a cercare il palino Andrea D'Antonis. Alla fine trova la biglia e dovrebbe venire trova il palino. C'era anche la seconda ipotesi di prendere solo la palla. Se entrava di più... In quella posizione del bigliardo è dura arrivare fino al palino. Ricordiamo che giochiamo sul bigliardo che hanno un mese di vita ma che sono sempre pure con sponde nuove. Quindi sponde fanno nuovo. Quindi il defetto tende a dare di meno. 270 tra uno e l'altro. Tensione di Antonis c'è il 12 ancora. 45 Quanti ne ha Stella? 35 Diciamo che con due bigli si potrebbe bocciare per partita. Attenzione che D'Antonis ha già dimostrato di non aspettare che l'altro bocci per partita. Abbiamo visto fare dei tiri che magari fino a un anno e mezzo fa non l'avevo mai fatto. Sì sì assolutamente ma questo lo dimostra che ha affinato la tecnica. Determinazione anche perché sa benissimo che ai 50 i tiri quelli diciamo così risolutivi bisogna tentarli. Eccolo qua. Attenzione! Entra poco ma segna. po' passiamo che Grazie. Grazie. Tra sponde De Antonis con un lancio di palla poco difficoltoso. Il punto rimane bianco ma è stato un bel tiro. Difficile andare a due biglie. Attenzione che a fare questo tiro... Alla fine andrò appunto per segnare con due biglie. Una. Ah, ero convinto che fosse bianco il punto. Ah, l'ha venduto? Tanto strike anche per Cardellini. 43-35. Primo set ball per Andrea De Antonis. Che era partito in sordina. Adesso ha l'opportunità. Quattro punti per chiudere. Chiude il primo set. Andrea De Antonis. 1-0. Un set a 0. Andiamo a vedere la fine del set fra Paginelli e Cardellini. Senza magari rompere tutta l'attrezzatura. Ecco qua. Il punteggio è 43-35, Cardellini se ben ricordo. Sì. E chiude la 12 di calcio di striscio a tutto braccio. Non è per niente facile. Subito da De Antonis di nuovo. Inizia il secondo set. Rimpalla paga 4 punti. Grazie a tutti. Due spondine strette per D'Antonis. E certamente se riuscisse nell'impresa di andare nei primi sedici in Italia chiuderebbe un anno veramente di gran livello. Una foto. Vediamo se trova. Bravissimo. Gran palla. Sai che poteva fare anche un birillo e essere un po' più grosso? Un po' più... Sì, un po' più grosso. Deve dire anche un birillo con la bianca. Merloni ne ha 43-23 Rinaldi. Però tiro l'ultima, attenzione. Grazie. 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 Alessandro Stella 6 a 0 bocciata 8 punti vediamo 10 arrivano arriva il 10 10 Grazie. 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 Si si riprova. Brutto notizie per il giocatore ruminese. Non ha fatto gioco 3-1 contro 1. intanto alla fine ha boggiato Simone Rinaldi era due biglie sotto trova il 10 attenzione che questo è una polveriera ha vinto Merloni il primo set e questa è la prima bocciata per Rinaldi del secondo set che parte con 10 abbiamo messo un po' di ordine stiamo seguendo le altre due partite quindi ci scusiamo per eventuali errori in questa partita che ricordo è visibile nell'altro canale senza una biglia per Alessandro Stella e la prima bocciata è la prima bocciata 4 punti vediamo se c'è il rientro il rientro arriva c'è il 12 30 a 0 Alessandro Stella ha assolutamente voglia di andare alla bella e giocarsi la qualificazione master ma è giusto che sia così tanto 16 a 0 Pasinelli non c'è quel tiro dove ti ha? non c'è quel tiro rispondevi voci mi sa per Alessandro Stella che cerca un 12 o un 16 da qualche parte attenzione lenta pressione buono è andata bella apre tantissimo questo è uno dei pilati che apre di più questo è quello il pallino va nella parte alta dove giocano Rinaldi e Merloni mi scuso per eventuali imperfezioni ma la cottura comincia ad arrivare la tonte poi è dalle 2 che stiamo parlando a un microfono sono solo 6 ore ci scusiamo quindi per eventuali strafalcioni come si dice no? intanto va a lunga corta De Antonis è mancato completamente sbagliato mi sa che saremo vicini al terzo set qua perché vedo che l'Inense è tutta nelle mani di Stella e di Antonis per adesso in questo set non ne ha azzeccata una al contrario dell'avversario intanto Cardellini azzecca un ennesimo 10 a bocciare attenzione attenzione il pallino viaggia bene vediamo se c'è qualche altro birillo forse un altro sono 8 punti e segna sì questo è un tiro bello perché fai 8 punti e il pallino va a nascondersi diciamo che può ancora recuperare l'avventaggio di Biglio in questa mano perché risponde ad offendere punti solo col pallino in realtà ci stava anche con la biglia con la correzione della correzione sbagliate Antonis provi lungo a corte entra pochissimo tanto Simone Rinaldi continua a martellare a 12 si è arrabbiato ha perso il primo set 24 a 0 naturalmente mi sono accorto che si è arrabbiato sai perché? perché ha alzato la punta del sopracciglio destro te non te ne sei accorto? no un altro strike per Alessandro Stella che se ne va verso il traguardo 44 a 8 sì 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 vediamo se Stella farà un tiro d'attacco mi sa proprio di sì 44 a 8 va per la chiusura il giocatore della bocciofila Imola ricordiamo di Bellari anche lui credo no? non lo so misurazione per Maurizio Donini noi andiamo a vedere le fasi finali di questa mano fra Pasinelli e Cardellini 16-12 Pasinelli che tenterà in lunga corta il punto dovrebbe già essere rosso entra poco anzi non entra proprio però l'abbiglia dovrebbe essere rosso si guarda per la 2 no direi 1 sembra 1 vediamo Mario Pasinelli la bocciata bergamasco mi ha detto anche il paese esatto io non me lo ricordo naturalmente e comunque è un paese in provincia di Bergamo ma al confine con la provincia di Brescia praticamente sul lago di Zeo per capirci poi magari se avrà voglia di venire al salotto glielo chiederemo me l'ha detto l'altro giorno ma è un nome talmente per me anonimo che non non me lo ricordo mi scuso ma non me lo ricordo Rimpalle paga 8 brutto errore nel momento peggiore 20-19 Cardellini che è già davanti di un set mentre andiamo di nuovo da De Antonis trova un birillo di grande qualità si poteva anche succedere qualcosa di più attenzione che Alessandro Stella sostanzioso ultima biglia e dopo ci saranno due biglie di vantaggio per De Antonis lunga e corta piscicare la biglia è un gran tiro 16 attenzione brutte notizie torna prepotentemente 44-28 e adesso per fare il calciuto di quella bianca qui in alto destra con un altro pieno si boccia per partita con un 12 si boccia per filotto con un 8 si boccia per lo strike ecco qua lunga e corta Andrea De Antonis due rincorse due rincorse non è brutto non è brutto attenzione non è brutto attenzione Andrea De Antonis 8 e 2-10 boccerà per lo strike lo ha già fatto ricordiamo è certo che Alessandro Stella che sembrava ormai padrone di questo secondo set si ritrova a dove fronteggiare un match ball il bello di questo gioco è anche questo Valerio che non hai mai perso certamente si e credo di poter dire che lo spettacolo è assicurato il locatore De Antonis è venuto fuori vediamo questa è una bocciata chissà cosa starà pensando dentro di sé probabilmente quello che ha pensato quando ha vinto la gara di Massa Lombarda questo era un pallino che pesava una tonnellata e attenzione e guardate dove va il pallino sopra ha i birilli e Alessandro Stella ha bisogno di due birilli di calcio alza non sono d'accordo Valerio e anche perché guarda guarda dove rimane la biglia bianca e guarda dove rimane il pallino non mi è piaciuta questa scelta dai due opportunità all'avversario non so se sei d'accordo con me ai 50 bisogna cercare di andare fuori eh purtroppo poi da singolo bisogna chiudere adesso prova De Antonis attenzione entra troppo aveva bisogno di un 12 che da lì può anche venire è entrato troppo per fortuna di Stella e abbiamo ancora questo secondo set in atto in essere mentre 29 Simone Rinaldi che diventano 35 a 5 ricordiamo però un set per Marco Berloni si va per il big play si va per la chiusura si va per mamma mia adesso deve trovare 12 beh andrà l'attacco di quella bianca qui in alto penso credo che sia l'unica possibilità perché quella rossa lì veramente ostruisce il passaggio ostruisce il tiro attenzione che questa devi darci mezzo colpo perché se no rischi sempre quei 12 per di Antoni vediamo non la prende risale la biglia gli è andata anche bene devo dire si adesso boccera per 4 Alessandro Stella 47 a 38 attenzione che è una anche per lui una bocciata veramente per rimanere nel match per andare al final set tanto Cardellini sta bocciando a 20 rovescia 19 pasinelli un set a 0 Cardellini ma seguiamo questo set ball Alessandro Stella un birillo i 10 e si va e bella se volevamo vedere delle partite le abbiamo viste se volevamo vedere dello spettacolo se volevamo vedere della qualità anche sì comincia subito bene 10 punti a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Direi tre biglie. 10 a 5. Filotto per D'Antonis. 13 a 10 scintilla in questo final set. Grazie. 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 Seconda biglia per D'Antonis. Grande cambio palla. Mentre Cardellini sbaraglia il castello con un altro strike 39-19. L'abbiamo visto parecchio. L'abbiamo visto parecchio. Indirittura l'arrivo. Simone Cardellini. Siamo ancora collegati direi. Non si sa ancora per quanto, però siamo ancora collegati. Terza biglia per D'Antonis che prova a spingere il pallino vicino alla sua biglia rossa. entra poco. Secondo obiettivo alla palla. Purtroppo, il segnale non è uno dei migliori. Sì, quindi spero di riuscire a portare a termine la telecronaca in caso altro link, il tempo solo di riformarlo. Il punto di Alessandro Stella che andrà a vedere se la biglia in alto qui in primo piano è attaccabile, direi sicuramente no di lunga corta o di spondebile di primo o di schiaffetto. È difficile a prescindere. Vediamo cosa avrà scelto Alessandro Stella. Lo schiaffetto. No, no, secondo me prova proprio ad entrare nell'incastro. Eccola qua. Eh, non l'ha mica tirata male. Tirata benissimo. Tanto Pagenelli sembra quasi arrendersi. È tornato in svantaggio di Biglia, ma seguiamo Alessandro Stella. Da 12 a 13, secondo pallino del terzo set. Filato di prima. Rinaldi c'è i punti per andare al terzo con Merloni. Un birillo, 46 a 7. Merloni lontano, ma attenzione, è Merloni. Pallino laggiù in fondo, difficile andare a trovare un miracolo. Siamo tornati, un buco di tre secondi, siamo tornati. Teniamo botta, teniamo duro, avviciniamoci. O ballerino. Attenzione che intanto Cardellini boccia per il filotto del master. Mentre D'Antoni sbaglia. No, segna comunque, era stretta, ma ha segnato. Andiamo a vedere la bocciata di Cardellini. Filotto per diventare master. Lui che è già stato due volte, giusto Valerio? Sinceramente non me lo ricordo. Uno è sicuro. Ma c'è il filotto. Eccolo Filotto. Vince Cardellini, bravissimo. E' uno dei tre nuovi master per la prossima stagione. Cardellini di Gabicce. Sì. Naturalmente, felicitazioni, complimenti. E ricordiamo che è entrato nel pool di letto del pomeriggio all'ultima gara. Il rosso perde Antonis. Mamma mia che partita questa qua. Oltretutto, guarda dove è il pallino adesso. Al posto del rosso. Il rosso è sulla sponda. Oltretutto, guarda dove è il pallino adesso. Oltretutto, guarda dove è il pallino adesso. Ascoltato. Ascoltato. Oltretutto. Ascoltato. Molto. Porque ho visto l'anima gara sponda. Autretutto. Il rib